Cesario Canci, uno degli inquilini del condominio San Giustino, una delle palazzine dell'Ater di via Ciccarone. Sono ben due le strutture dell'Ater che si trovano in questa strada. 16 famiglie vi abitano all'interno. Tanti i problemi che ci sono, soprattutto di carattere strutturale. Ci sono tantissime crepe che preoccupano le persone che abitano in questa palazzina. Avete chiesto all'Ater di intervenire, ma finora non è successo niente. Anzi, dall'Ater vi dicono che non ci sono i fondi disponibili. Esatto. Le condizioni sono un po' pessime. Messa a terra non esiste. Le lambadine si fumano di continuo. Le crepe che ci sono sono troppe più steppie. Sono molto profonde. Voi avete paura anche per la vostra sicurezza, perché qui potrebbe crollare tutto da un momento all'altro. Sì, ci stanno anche il fatto che stanno pure un po' di topi di fogna che vanno in giro. Peggio dei gatti, diciamo. E il resto, le finestre che sono un po' larghe, ci sta due dita di spazio sotto le finestre e ci entra vento di continuo. La situazione è drammatica. Gratinata abbiamo cercato di ripitturarla noi, però sembra la stessa cosa, perché l'umidità ci sta. Dove stanno i condatori? Stanno sia i condatori che il costo della corrente vicino. Diciamo, l'umidità può succedere qualcosa pure che aveva la corrente.